Proseguono i lavori sulla Fondo Valle Calore Salernitano, programmati dalla provincia di Salerno e portati avanti dal settore viabilità e trasporti diretto da Domenico Aranesi. La Fondo Valle Calore Salernitano, ha dichiarato il presidente della provincia, Michele Strianese, rappresenta un'infrastruttura strategica per il territorio provinciale meridionale, in quanto costituisce un'asse stradale a scorrimento veloce che agevola il collegamento tra le aree interne del Cilento e la Valle del Sele e valorizza il patrimonio paesaggistico e culturale dei comuni dell'area cilentana. In queste ore abbiamo armato la soletta del viadotto Alburno, i lavori strutturali sono quasi terminati, ci resta da fare il pacchetto stradale. Muovendo dalla volontà di sostenere opere localizzate nel sud Italia, hanno pensato ad un'arteria stradale che possa collegare la zona di Alburni, Val Calore, situata nel Parco Nazionale del Cilento. Progettata nel 1984, nel corso degli anni i lavori sono stati bloccati e sospesi numerose volte negli anni. Nel 2004 era stato proposto il primo accordo di programma tra i sindaci dei comuni coinvolti, la Regione e la provincia di Salerno, ma successivamente è decaduto per il ritiro della sottoscrizione da parte dei sindaci. A seguito dell'invito della provincia sulla necessità di dare avvio alla costruzione di un'opera strategica, sono arrivati a nuovo accordo. Nonostante il dissenso di cittadini e agricoltori abbia portato a vari rinvii dei lavori nel 2007, questi riprendono e in quell'anno verranno portati a compimento i primi due lotti del progetto per poi vedere un nuovo blocco del cantiere. Alla realizzazione della strada Scorrimento Veloce, Fondovalle e Calore sono connessi casi giudiziari e arresti che hanno coinvolto sia esponenti politici sia progettisti. Nel 2012 la sopraintendenza di Salerno ritira il nulla osta sostenendo che l'autorizzazione di dieci anni prima era ormai scaduta, ma il Consiglio di Stato si esprime nel 2015 respingendo il ricorso e quindi autorizzando la ripresa del cantiere dopo tre anni di contenzioso. Melcantiere è stato fermo da anni, ma nel 2016 il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha annunciato lo sblocco di circa 9 milioni di euro per il completamento dell'asse viario.